Alla fine della scorsa settimana si è svolto un primo incontro operativo sul campo con la visita da parte dei tecnici dell'Istituto Superiore della Sanità e di AMAP, insieme ai rappresentanti di tutti gli enti interessati agli impianti della filiera di potabilizzazione e distribuzione dell'acqua e l'invasopoma di Partinico e ad alcuni impianti dei altri due distretti interessati dalla prima fase del piano di sicurezza dell'acqua. Quello dell'agro palermitano per il quale sono state ispezionate le sorgenti del Gabriele e quello dello schema acqueduttistico Risalaimi per cui sono stati ispezionati gli storici serbatoi di San Ciro, ai quali afferiscono anche le acque delle sorgenti di Scillato. Queste tre rappresentano le principali reti di gestione e distribuzione dell'acqua potabile nell'intera provincia di Palermo. Due giorni di incontri, analisi, studio dei processi già in atto e delle strutture disponibili a partire dalle fonti idriche come il lago Poma, gestito dalla regione, fino alla distribuzione tramite le fontanelle o le utenze condominali passando per i processi di potabilizzazione realizzati all'impianto Cicala di Partinico e le analisi chimiche di qualità svolte presso i laboratori aziendali. L'obiettivo del lavoro avviato da AMAP e dall'Istituto Superiore è quello di creare un sistema integrato di prevenzione di ogni rischio di tipo sanitario e di sicurezza legato all'intero ciclo dell'acqua potabile. Il piano segue le indicazioni fornite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Ministero della Salute e mira soprattutto alla prevenzione sotto il profilo tecnico operativo e a un appropriato uso della risorsa idrica da parte dei cittadini. I due giorni di lavoro sono stati utili per raccogliere un set di dati sull'attuale struttura e infrastruttura operativa di AMAP che servirà a costruire una prima matrice di rischi potenziali da prevenire tramite interventi migliorativi dei processi ed investimenti strutturali anche grazie al ricorso a strumenti digitali per il monitoraggio continuo. Tutto questo porterà alla redazione del piano di sicurezza che si attua su quattro assi fondamentali la prevenzione di emergenze di tipo idrico potabile attraverso la valutazione del rischio in ogni fase dalle fonti fino alla distribuzione, la tempestiva verifica di eventuali eventi di contaminazione attraverso un sistema di monitoraggio, telecontrole e allarme, la protezione delle aree di captazione e delle sorgenti ed infine la partecipazione dei cittadini in modo consapevole e attivo migliorando strumenti e procedure di comunicazione ordinaria e di emergenza.